Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial che in questo nuovo video vi spiego come attivare il retracing su Elden Ring non è che ci vuole un video di mezz'ora per farvi capire come attivarlo, non è difficile hanno applicato questa nuova funzionalità su questo gioco settimane fa quindi basta andare direttamente sul sistema ma solo se lo supporti questo retracing non è che hai una 1050 Ti e lo puoi attivare non esiste il retracing sulla 1050 Ti quindi sistema, vai su video, grafica, qualità retracing e lo attivi ma solo quelli che hanno una serie 2000 in su, tipo una 2060 possono attivarlo la serie 3000 tipo la 3060, 3050, 3070, 3080 e anche la serie 4000 quindi quelli hanno il retracing per AMD invece è proprio un'altra cosa a parte, quindi non so dirvi quindi qua si trova la qualità retracing se hai una scheda video costosissima, ovviamente c'è il retracing su questa scheda video puoi attivarlo tranquillamente, senza problemi quindi se questo video ti è stato utilissimo ti consiglio di iscriverti, attivare la campanellina, lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao